Se un uomo ti guarda, cosa significa? Sono molte le donne che si chiedono che cosa significa quando un uomo ti guarda. Perché un uomo dovrebbe guardarti? Qual è il significato? Magari è innamorato di te, magari ti piaci. Molte donne sono spesso compiaciute se vengono guardate da un uomo, magari perché si mettono con la minigonna oppure un po' scollate e quindi si rendono conto che potrebbe essere questo il motivo, ma talvolta invece hanno anche un abbigliamento che non evidenza nulla e comunque magari gli uomini li guardano. Ecco, qual è il significato profondo del fatto che un uomo ti guardi? Significa che è innamorato? Significa che gli piaci? Perché è molto importante per te capire questo, ti svelerò questo, perché poi dipende anche da come ti guarda un uomo, se ti guarda negli occhi, se ti guarda, che ne so, le gambe, il seno, oppure che cos'è che guarda, per quanto tempo ti guarda, è un altro parametro importante, è un altro parametro importante capire in che modo ti guarda e quanto a lungo ti guarda e anche come va, come via il suo sguardo, se lo sguardo è uno sguardo insistente, oppure se è uno sguardo altalenante, se ti guarda e poi guarda da un'altra parte, insomma ci sono tutta una serie di parametri che tu devi tenere in considerazione per decodificare il tipo di sguardo di un uomo e ovviamente adesso ti svelerò questi misteri per capire esattamente qual è il significato. Allora, devi capire questo, che il fatto che un uomo ti guardi ha un significato profondo, e cioè non significa un cazzo, non significa niente che un uomo ti guardi o non ti guardi, gli uomini guardano perché ci hanno gli occhi, magari può significare che ho morto di figa, che ti guarda anche se sei un cesso, non lo so questo, però di fatto il fatto che un uomo ti guardi non significa niente, 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 tantomeno non significa che ti ama, tantomeno non significa che gli piace, non significa niente, gli uomini guardano perché sono visivi, tendono a guardare, punto. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, su TikTok e su YouTube, ti do appuntamento